Io ho imparato molto insegnando, cercare di aiutare gli altri a fare il proprio film, a cercare qual è per loro la modalità migliore per raccontare il mondo. Che cosa è il cinema del reale? Riuscire a trovare lì, nel caos che ci circonda, delle linee narrative possibili. Grazie a tutti.